Sono state impiegate alcune centinaia di persone nell'arco delle sei giornate perché poi noi questi servizi li abbiamo disposti un giorno prima e li abbiamo terminati un giorno dopo. E anche ieri nella fase di chiusura della fiera, quindi la fase di esoto da parte di tutti gli espositori, problemi non ce ne sono stati, tutti quanti sono stati seguiti, è stato fatto in modo che non vi fossero inconvenienti di nessun tipo. Bilancio positivo dunque sul fronte sicurezza durante Vicenza Oro, pochissimi a immaginare gli episodi di illegalità che si sono verificati nel corso dell'evento. Tra quelli più rilevanti negli ultimi giorni, l'episodio della valigia sospetta depositata nel guardaroba che emetteva un inquietante ticchettio e che aveva fatto scattare le misure antiterrorismo. Isolata l'area sono intervenuti gli artificieri, all'interno della borsa solamente una vecchia sveglia lasciata inopportunamente in funzione. Scoperto poi un potenziale truffatore intenzionato a rivendere otto orologi usati e un borseggiatore che si era impossessato in debitamenti di un portafogli e di carte di credito. Anche con l'utilizzo di sistemi di controllo assolutamente sofisticati, quali appunto l'elicottero, sistemi di videocamere, abbiamo impiegato dei reparti speciali, abbiamo impiegato unità cinofile. Grazie alla collaborazione con l'ente Fiera e con il servizio di sicurezza interno della Fiera abbiamo potuto evitare che venissero commessi reati e nei pochi casi in cui vi sono state delle irregolarità siamo stati in grado di intervenire in maniera assolutamente tempestiva ed evitare che vi fossero delle conseguenze.